Stiamo proprio con un video che ci introdurrà ai temi principali. Il privato non sempre è pronto ad avere degli obiettivi che siano per il bene comune ma è abituato ad avere degli obiettivi di profitto e voi avete il know-how in qualche modo di come orientare in qualche modo questa collaborazione tra pubblico e privato orientando appunto le politiche nella direzione della sostenibilità. Si può riassumere tutto questo in una frase? Quello che stiamo vivendo non solo è difficile ma è difficile anche cercare poi le parole per rappresentarle. Muoversi verso il futuro Lanciare un messaggio nuovo Curiosità di conoscere Una formulazione un po' pomposa per nascondere dei bluff Un progetto! Un progetto! Musica Un progetto! 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 Noi, 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 noi.